Un saluto da Dottor Palmas da Moldavia, dall'Istituto Reabilitazioni Estreme della Bocca, dove ogni anno cerchiamo di far fuori più di 2000 pazienti che hanno perduto denti per piorrea, incidenti stradali, errori medici. Oggi parliamo di questo argomento, ovvero come scegliere il dentista giusto anche se non sei un dentista. Questo è l'istituto visto da fuori. Questa in realtà è una parte di dove noi andiamo a curare i pazienti. Noi siamo molti di più, infatti non ci stiamo lì dentro in quella singola struttura. Abbiamo anche una struttura di chirurgia dedicata di fianco e un'altra struttura dedicata alle terapie dietro l'angolo della strada. Terapia significa pazienti che devono raddrizzare i denti, devitalizzarli oppure salvare alcuni dentini. Diciamo che quella lavora più con i pazienti locali. L'80%, se guardate bene, sono donne, lavoriamo con un'azienda prettamente femminile. Poi molti sono coppie, mariti, mogli, ci sono. Anni fa io dissi basta, non siamo più una famiglia, siamo un team. Poi vennero dall'HR, il Dipartimento Risorso Umani, dissero no, siamo una famiglia perché il 30% sono coniugi. C'erano ragione loro, c'erano ragione. Siamo un centro all'avanguardia nella ricostruttiva maxillofacciale, dette in parole povere, cioè noi facciamo cose estreme, non convenzionali, che non si fanno normalmente nell'ambulatorio dentistico, ma che devi andare in sala operatoria, all'ospedale per essere addormentato e fate con calma senza che il paziente ha bisogno di sputtare, alzarsi, deambulare, vomitare. Con calma si siede, si addormenta o si seda e si fanno cose estreme. Dopo che si sveglia, è stata chiusa la gengiva, è finita la chirurgia. L'obiettivo è quello di dare una chance di nuovo per poter mangiare a pazienti che altri gli avevano detto che non si può più fare nulla. è una situazione talmente avanzata e compromessa che non si può fare nulla. E dopo vedremo anche come in realtà si può trovare chi ti risolve il problema, anche se ti hanno detto che non si può risolvere. Noi facciamo questo, quindi non facciamo cure di singoli denti, non facciamo devitalizzazioni, non è quello il nostro punto forte. Il punto forte è rimettere i denti a chi li ha perduti completamente, quindi ricostruire il sistema masticatorio. Poi attaccato chiaramente alle basi osse ci sono anche i muscoli, ci sono le articolazioni e sono tante le cose che vanno controllate alla fine di una riabilitazione, non solo i denti e dove stanno i denti. Certo, quella è la parte che più interessa al paziente, però poi devono funzionare. Per la cronaca siamo leader in Europa nel settore delle riabilitazioni per recensioni. Non c'è un'azienda che ha recensioni positive superiori alle nostre. E questo è un punto fondamentale quando poi ci si orienta per cercare una clinica giusta, non è il solo fattore questo, ma è uno di quelli che ti dà un po' più garanzia di essere tutelato e di essere nella direzione giusta. Infatti la domanda è come capire se un policlinico, una clinica, un dentista, un commercialista oppure uno specialista di qualcosa, un professionista sia quello giusto per risolvere le tue cose. Devi ricercare lo specialista fondamentalmente, devi stare alla larga dal generalista e devi farti mostrare i fatti. Non basta chiacchierare, o che gli hai fatti i casi, fammeli vedere, mostrameli dove sono. Hai una collezione, hai una biblioteca di tutti i tuoi casi, ma non solo i prima e dopo, anche fammi vedere come sono realizzati, come sono svolti. Un professionista che ha quello che si chiama il portfolio e un professionista che non ha niente da nascondere, anzi ti apre tutto quello che il cassetto delle cose che ha fatto in passato, anche quelle riuscite male, non per forza le cose riuscite meglio e te le mostra, te le può mostrare. Per esempio se io devo fare una rinoplastica, cerco un chirurgo, però prima gli chiedo mi fai vedere gli altri nasi che hai fatto. Se poi dici che fai cose complesse, che operi i nasi già operati, che però sono falliti, che è andato in necrosi l'osso, dove hai ricostruito l'osso, fammi vedere quei casi, perché un conto avere poi dei casi, di casi semplici, di cose semplici, e un conto invece proprio quelle cose di cui ho bisogno. Chirurgo plastico, che opera a seni riusciti male, te li rimetti dritti, ok fammi vedere 100, 200, 1000, 3000 di quei casi, anche se non me li aprono tutti, però fammi vedere le cartelle dove ce li hai. L'hard disk, oppure sediamoci al TAC 3D e mi apri tutte le TAC tridimensionali di casi simili al mio, non è che dobbiamo passare un giorno così, però prossimamente noi faremo una stanza dove il paziente può stare anche tre ore, come in biblioteca, a vedersi tutti quei casi, anche perché rientra poi quello nella fase dell'orientamento, che tu trovi un caso simile al tuo, delle volte puoi trovare anche un caso che, come lo vorresti, ecco io vorrei tipo questi denti, come, e quello poi ci aiuta anche a andare nella direzione giusta in realtà, è una cosa in più che ci aiuta poi a accorciare anche i tempi di realizzazione di un singolo caso. E lo specialista è forse il fattore più importante sul quale pochi riflettono, dal quale poi derivano tutti i problemi, come vedete in questa slide, ho messo un'immagine per spiegare questo concetto, un albero che ha delle radici profonde, lunghe, ramificate, radificate, i rami stanno sopra, che sono ramificati anche quelli, e poi c'ha un tronco comune, sotto ci sono tutti i problemi che ci possono essere, per esempio il mio figlio che ha i denti storti, è una radice, oppure mi mancano alcuni denti, è una radice, ho dolori all'articolazione, è un'altra radice ancora, ho problemi di alitosi, è un'altra radice, ho problemi estetici, non mi piacciono perché sono gialli i denti, sbiancamento dei denti, oppure ho problemi di malattia parodontale, piorrea, oppure ho problemi di trauma stradale, ho fatto un incidente grave, mi sono fratturato tutte le mandibole e spaccato i denti, oppure ho problemi che ho perduto i denti da ragazzino a 20 anni, mi li hanno messi, storti, la bocca si è storta e mi ha creato problemi alla postura, i denti che mi hanno fatto mi li hanno dovuto fare storti per compensare e in più si è innescata la piorrea, oltre alla piorrea ho iniziato a perdere alcuni denti, mi hanno unito gli impianti che c'erano a delle radici naturali, ok malpractice, quindi cose fatte male, quindi errori di altre KIP, che altri problemi ci possono essere? Se noi immaginiamo che i problemi sono alla fine distribuiti su una curva gaussiana, dove qua ci sono i casi più semplici e qua il paziente è morto sotto i ferri, era troppo complesso l'intervento, nel senso che a un certo punto qua ci sono gli sbiancamenti dei denti, alcuni impianti da mettere, qua ci sono pazienti che hanno più denti da mettere, anche capsule, carie e altri problemi, quindi quella che direbbero l'avete imparata ormai sta parola comorbilità, ci sono altre patologie, tante cose messe insieme, ecco in genere raramente solo una, se guardi una bocca tutti hanno almeno i denti storti, l'alitosi e un po' di gengivite e qualche dente che manca e qualche capsulina, poi qua invece pazienti che devono riabilitare una arcata, pazienti che devono riabilitare entrambe le arcate, pazienti che devono rimettere mano agli errori, qua siamo già nella maxillofaciale, maxillofaciale e quindi parliamo già di uno sconfinamento di settore, cioè nel senso già questi tipi di chirurgie devono essere fatti in altri ambienti e da equip, non da singolo professionista o igienista, quindi significa che più ci spostiamo verso qua e più è un lavoro di team, d'equipe, più stiamo verso qua e più è un lavoro semplice che può fare addirittura l'igienista come lo sbiancamento dei denti, più siamo nel centro, devi essere bravino, qua devi essere esperto, qua hai bisogno di anche altre persone, altre figure, non ce la fai da solo a fare tutto, a fare la chirurgia, addormentare il paziente, poi vai in laboratorio, fai i denti, poi li provi lì, poi vedi, fai il fotografo, fai le foto e li carichi di nuovo sul computer, serve un team, un'equipe e noi come vi ho fatto vedere prima siamo un'equipe nutrita. Più vai avanti ancora in questa curva gaussiana, più ti rendi conto che diventi un punto di riferimento in Europa che attrai talmente così tanti pazienti che hai bisogno addirittura di separarli. Ok, in una clinica faccio questo, in una clinica faccio questo, nell'altra faccio l'altro, non posso mettere tutto insieme perché sennò si crea caos e c'è un limite naturale di dimensione che puoi raggiungere prima che diventi caos, quando inizia a crescere a un certo punto è meglio separare e fare delle cliniche più piccole che stiano logisticamente in altre città che siano più raggiungibili perché lì ci mandi poi magari controlli, controlli li farai poi una volta all'anno, ogni sei mesi, meglio che sia semplice da raggiungere, Bergamo per esempio, non ha senso far venire qua a occupare l'appartamento, occupare gli autisti, per cose più semplici, lì puoi fare magari in Romania le chirurgie dove non hai bisogno dell'anestesia generale, di modo che fai solamente addormenti pazienti, anestesia generale con maxillofaciali in un centro di produzione dedicato e poi hai necessità dopo di avere il personale che sia specializzato in maniera verticale solo in quelle cose, che lavora in equip, ma sempre di meno, l'equip sarà composta di persone che sanno fare più cose, ma ne sanno fare bene una quando si lavora in questa estremità della gaussiana. Le recensioni sono importanti quando sei a questo livello perché ne operi talmente tanti che aumenta il rischio di avere le recensioni negative e quindi anche mantenere la dimensione corretta serve anche a bilanciare la qualità di quello che si fa. Le recensioni sono uno di quei modi per trovare uno specialista che fa le cose come dovrebbero essere fatte, per una caratteristica che le recensioni possono essere nel tempo modificabili, cioè tu quando la apri come paziente dopo tre anni, cinque anni, dieci anni la puoi sempre modificare, cambiare, non è che una volta è scritta rimane lì per sempre, noi non le possiamo cambiare, non le abbiamo scritte noi, non le possiamo neanche cancellare, però c'è uno stratagemma che una clinica magari che ha paura di mostrare le recensioni negative può fare ed è quello di non mostrare la pagina delle recensioni su Facebook per esempio, tu la puoi nascondere, ok non voglio che si vedano le recensioni, su Google questo no, non puoi eliminarle, quindi è importante vederle entrambe, sia Google che Facebook, entrambe vanno viste e soprattutto bisogna cercare una clinica non solo che ce li ha alte le recensioni, quindi 5 stelle, 4.9, va bene, ma che siano molte, perché averne molte significa intanto che lavora da tanto tempo, ma se il voto è alto e sono tante significa che dopo tanto tempo che lavora nessuno ha cambiato la recensione, quindi quello che avevano fatto aveva lungimiranza, io posso avere se no recensioni alte, ma poche, 10, 100, non sono però quelle garanzia di tanta esperienza, tieni conto che la recensione poi non la fanno tutti, su un paziente che la fa ce ne sono magari altri 7 che non la fanno la recensione, quindi per averne tante ne fate ancora di più di pazienti. Su Facebook è più semplice avere recensioni, su Google è un po' più macchinoso e quindi una recensione Google vale anche di più. E poi non dovete cercare per forza quello che c'ha le 5 stelle, può essere anche 4.9, 4.8, ma se sono 20.000 recensioni capite che nel gioco dei grandi numeri ci può stare che ci sia qualche recensione negativa. Le recensioni però non sono l'unico fattore, vi ho detto, cioè se queste recensioni fossero di una clinica che fa sbiancamento dei denti, capite che non è garanzia che quella clinica vi può risolvere il caso, anzi è molto importante che sia una clinica, tornando al discorso dell'albero, se noi saliamo cosa c'è lì? Il tronco che unisce tutti questi problemi. Il tronco è la categoria, lo potremmo chiamare commercialista oppure dentista, nottaio oppure che ne so, muratore o meccanico. Uno ha un problema, sbiancamento cosa pensa? Dentista, dolore all'articolazione? Dentista, dolore al dente? Dentista, devo rifare tutti i denti? Dentista. Il problema è che se vai dal dentista c'è il rischio di capitare al generalista, invece tu devi capire che poi l'albero si divide nei rami in tante altre decine di specializzazioni e poi si ramifica ancora di più, si arriva alle foglioline, quelle sono le ultra specializzazioni, più si va verso questa estremità e più si va verso le foglioline, le ultra specializzazioni e capita a questo punto una cosa, che il centro ultra specialistico non lo trovi per prossimità, cioè non sta a un chilometro da casa tua, il centro iper specialistico che fa i trapianti di fegato. Se cerchi invece l'igienista dentale magari ne trovi uno anche un chilometro di distanza, 5 minuti di auto, se invece devi fare il trapianto, anzi la cattaratta, magari lo trovi uno nella tua provincia, se devi invece fare la rimozione del bulbo oculare con simulazione dell'occhio artificiale stampato con le ultime stampanti 3D uscite un mese fa. Ok, più vai nello specifico e più scompaiono tante opzioni che hai, alla fine rimane quella di opzione, devi andare a Abu Dhabi, perché lo fanno lì quello e a un certo punto ti devi mettere su un aereo. Cosa capita poi? Che questi centri, guarda caso, sono in quelle città dove esiste il turismo medico, per ovvie ragioni che lì i prezzi in quella nazione sono più bassi, ma sono raggiungibili con l'aereo, non basta essere una nazione economica, deve anche avere un aeroporto raggiungibile, se no non si innesca la magia che fa sì che arrivano un sacco di pazienti là, arrivano spinti inizialmente da motivi economici, ma quello che poi si innesca è l'iperspecializzazione, un team che a un certo punto crea divario rispetto a tutti gli altri a livello europeo, che inizia a ultraspecializzarsi in quella chirurgia. Ma la storia perché è proprio lì, perché proprio l'oro è su base economica la storia per cui nasce lì quel centro e non invece che ne so a Nuoro, oppure che ne so a Follonica. Ci sono centri, quelli privati, che nascono lì dove ci sono queste condizioni. Quindi il primo errore che io non dovrei fare per trovare, per evitare di capitare nelle mani di un specialista sbagliato, intanto pensare alla categoria soltanto, mi serve un commercialista. Lo sapete, c'è un commercialista specializzato in una cosa, chi nell'altra, o anche gli avvocati, sono uno specializzato nel contenzioso medico legale, uno specializzato negli incidenti stradali, uno in matrimoni, divorzi, non sono tutti uguali e quindi se tu hai un problema di che ne so, che ti hanno tamponato, colpo di frusta, è diversa quella problematica di cercare un avvocato, uno studio legale che ha dimestichezza con quella normativa, l'interpretazione di quella normativa, piuttosto che magari problemi internazionali, di società, allora ne cerchi un altro di studio legale. E guarda caso l'avvocato specializzato magari in bag internazionali sta a Roma, per esempio, non sta a Cireale, perché tutti i clienti arrivano da più parti d'Italia facilmente là, perché sono problemi più rari, specifici, ci sono, ma sono tutti uno qua, uno a Parigi, uno a Genova, uno a Cagliari, non puoi aprire in ogni città uno studio legale. Lo stesso è per le cliniche ultra specializzate. Quando tu invece capiti nelle mani del generalista, c'è alta probabilità che non abbia o i mezzi per lavorare su un caso molto complesso, perché siamo al trappianto, tu vai in guardia medica, devo fare il trappianto di fegato, ma qui il dottore non c'è, solamente l'infermiera. mette i guanti, tolga il fegato, facciamo, ma non ci sono gli strumenti. Vabbè, con quello che avete, fate. Ok, c'è alta probabilità poi che le cose falliscano. Il titolo non è condizione necessaria, garanzia poi di successo. Ok, uno può anche avere i titoli, ma se gli manca la pratica, cioè che ne ha fatti tanti, c'è il rischio che lo sta facendo la prima volta, e quindi alta probabilità che le cose non vadano come vorremmo. Se invece ha fatto la pratica, ma non ha i titoli, non ha studiato, si è fermata la terza elementare, però le faccio da tante queste cose, sono abusivo, le faccio bene. Però c'è alta probabilità lì che non riesce a capire la patologia perché non ha studiato la diagnosi differenziale con tutte le varie patologie, che pensa che è quello, poi in realtà stavolta l'ha fregato, era un'altra cosa. Il paziente è morto. Però ne aveva fatta esperienza. Oppure può capitare che c'è i titoli, c'è l'esperienza, ma non c'è il cucchiaio, coltello e forchetta, non c'è i lavori sofisticati, si apre poi tutto un problema dell'assistenza poi dopo. Assistenza. Cioè l'assistenza, essendo cose molto sofisticate, devi pensare già che se qualcosa non va male, come ci rintervengo, come ci rimetto mano. E questo dipende dal come li hai costruite. Cioè l'hai assemblato, l'hai fuso, sono pezzi avvitati tra loro, sono pezzi incollati, incollati puoi fare più nulla, vai buttare e devi rifare. Se invece li puoi smontare, svitare, puoi solo sostituire alcune parti, alcuni pezzi. Ma soprattutto poi se l'hai fatto a mano o se l'hai fatto col computer, perché se l'hai fatto a mano deve tornare Leonardo da Vinci e rifarlo uguale. Se l'hai fatto col computer, c'hai in un penino USB i denti, li rimetti nel robot e te li ricreai identici a come erano prima. i denti, te li fa uguali. Ma dipende dalle scelte che fai qua, l'assistenza. Se in questo punto tu scegli di fare le cose in maniera analogica, non ti si aprono tutto un ventaglio di possibilità che ti potrebbero un domani risolvere dei problemi. O dare al paziente la possibilità oggi di iniziare con un gradino più basso e domani fare denti che erano più costosi, senza dover stravolgere il progetto. Cambi i materiali, rifai quelle forme di un altro materiale che magari oggi ancora non c'è, non esiste. Ventaglio di possibilità. Oppure se lo faccio col digitale posso avvalermi a quel punto di designer anche i migliori, che non stanno per forza qui. Oppure posso spedire i pezzi direttamente al centro assistenza. Oppure senza quindi avere il paziente qui, perché tanto ce li ho salvati sul computer. Oppure posso spedire il file del libro e gli dico, voi ce l'avete da stampare, vi ristampate il libro. Non c'è bisogno che ve lo mando da qui. Se invece il libro l'ho scritto a mano con la manuense, lo perde, devo ritrovare la manuense che lo faccio uguale, però se è dimenticato com'era la storia. Viene un po' diversa la storia, non è identica. E c'è il rischio anche che magari con la manuense nel frattempo è morto, si è portato con sé la storia. Capita che qualche dentista muore. Sono una categoria che muore verso i 50 anni i dentisti. Io ne ho 37. Ho smesso di operare quando ho letto la statistica. È stressante, molto stressante, perché devi occuparti di tante cose. 2017 mi sono tagliato le mani, ho detto se vogliamo crescere, non così ma così, allora ci dobbiamo tagliare le mani. Come riuscire a fare le stesse cose se non ci avessi più le mani? Ok, ora mi sto tagliando le gambe. Come potrei fare le stesse cose se non ci avessi le gambe? Da un letto. Allora, quando ti sforzi di fare e inizi a mandare avanti gli altri, stai facendo il bene del team. Qua invece ragioni da solista. Anche perché sei sostituibile, lo possiamo fare chiunque, quello allora devo fare tutto io a studio. Segreteria, prendo appuntamento. Sto col paziente a chiacchierare, di là aspetta, sala d'attesa, ritardo di un'ora. Perché è importante comunque passare il tempo col paziente. Noi invece abbiamo persone che parlano con voi prima, dopo le cure, durante le cure. C'è un dipartimento qua di audit e controllo che hanno delle persone che si occupano anche di se c'è un problema, percepirlo e allertare, vedere dove va risolto. Non potrei io fare tutto da solo. Noi abbiamo ognuno una sua specializzazione, tra tutti questi che vedete qua, tutti fanno cose diverse. È importante che ognuno fa da A a B, che non si sovrapponga con gli altri, se no lì iniziano i problemi. Ognuno è responsabile di quel dipartimento. Chi è andato al dipartimento alla divisione ricerca e sviluppo, laboratorio, ancora vi porteranno. Lì vedrete che ci sono dipartimenti dentro, dove loro fanno i designer. Qui ci sono i robot, quelli che li controllano. Qui quelli che preparano i file che arrivano o i modelli che arrivano. Lì vengono finalizzati, qui vengono assemblati, qui c'è il packaging e spedizione. La reception? Non so che fa, perché non arrivano i clienti, fanno tutto col computer. Però controllano lo stato degli ordini, delle cose e stanno un po' su Facebook. La reception? Però sono fondamentali anche loro, se no il telefono non c'è chi risponde, non può andare il tecnico a rispondere al telefono. Molto brave. Siamo tutti giovani, è importante l'età, è importante cercare persone giovani che hanno davanti almeno altri 15-20 anni di vita, perché poi se no c'è il rischio che scompare il centro o scompare la memoria storica. Noi facciamo un progetto per i prossimi 20 anni. Non per scappare con la cassa in un anno e chiudere lo studio. Quindi cercare gente che iniziano a fare famiglia, fanno i figli, hanno un progetto a lungo termine e sono motivati. Sono nella fase proprio crescente della vita, dove hanno la grinta, l'energia. Perché a un certo punto devi lavorare, ti renderai conto, con persone che gli brillano gli occhi, non con persone che sono già stanche. E quelle che gli brillano gli occhi sono le persone che, ok, facciamo anche questo nuovo, vai proviamo quest'altro, non persone che già si sono sedute. E questa è una piccola cosa da controllare, cioè quando tu parli con uno specialista, vedere se quello è uno specialista già stanco o uno specialista che ha voglia. Quello che ha voglia non guarda all'orologio, ma fa le fotografie. Ok, questo qua. Lo specialista fa le fotografie, perché vuole fare dei piatti da fotografare. Se uno non c'è niente da mostrarvi, è probabile che è stanco o che non c'è neanche una macchina fotografica in studio. Ma se non c'è una macchina fotografica, significa che non ti interessa di quello che fai. Come farsi curare bene anche se non ti curi in un'altra nazione? Attento al risparmio eccessivo, spesso si nasconde una truffa. Ci sono dei parametri, dei range, anzi di spesa, oltre i quali diventa sospetto, se una cosa è troppo economica. Anche in Moldavia, anche in Albania, anche in Romania. Non si può andare sotto la soglia minima, così possiamo dire, di costo dei materiali che ci danno la possibilità di poter intervenire dopo. Se in realtà sono troppo bassi questi prezzi, comparati con la media dei prezzi di quella nazione, c'è il rischio che da qualche parte si sta togliendo qualcosa. Questo un paziente non riesce a capirlo, perché il paziente non capisce qual è il range medio in Italia o Romania e Moldavia. Noi questo ve lo possiamo però dire per esperienza, perché vediamo anche gli altri come lavorano. Ci sono degli stratagemi per abbassare i prezzi ulteriormente, che sono per esempio non utilizzare dei pezzi che invece dovrebbero essere utilizzati per poter garantire poi l'assistenza e sono quelli su cui abbiamo battuto per anni. Fate attenzione ai denti incollati. Denti incollati, cementati, quelli sono pericolosi, perché poi in caso di problemi non li puoi staccare se la colla è quella proprio definitiva, oppure se la colla non è definitiva si staccano ogni due o tre mesi questi denti. E devi sempre stare dal dentista a rincollare, a cementare le corone. Il problema è poi che se si scioglie la colla ci entra dentro la saliva e i batteri e quelli iniziano l'infezione sugli impianti. È una tana quella dove si nascondono. Questi piccoli dettagli il paziente non li sa. Tra un mese e mezzo riceverete tutti un libro che ve li spiega. Tutti questi piccoli dettagli. A cosa bisogna fare? Attenzione quando si fanno dei denti all'estero. Ma dico all'estero per non farmi denunciare in Italia. All'estero bisogna fare attenzione a delle cose che senza quelle siamo sotto i parametri minimi di sicurezza. Ci sono materiali che sono molto economici, più costosi, ma meno economico non vuol dire che è peggio. O più costoso non vuol dire che è meglio. Dipende lì dalla scelta dell'azienda. Bisogna invece sapere che alcuni materiali funzionano meglio di altri per via della natura della bocca, che è un ambiente flessibile, dinamico, i denti non sono innervati e quindi si possono rompere e dobbiamo già pensare a come poterli svitare. Oppure ci sono dei materiali che sono belli, come per esempio lo zirconio, ma sono fragili come il vetro. Quindi prima di metterli in bocca vanno rotti, non aspettare che si rompano in bocca. Vanno rotti, separati vari pezzi e messi in maniera composita, in modo che poi non si rompono quelli. Un po' come le strisce tagliafuoco nelle montagne. Faccio delle zone dove non si può propagare lo stress, il fuoco. Allora rompo così se flette non si spezza perché già sono separati i pezzi. Come le rotaie. Immaginati se le rotaie fossero tutte unite. Avremo dei problemi poi di dilatazione, di espansione al freddo o al caldo d'estate a 40 gradi o a meno 10. Salta alla stazione il binario, fa saltare se fa caldo. Bisogna fare attenzione poi al fatto che il paziente ha una bocca che ha la sua storia. Alcuni materiali con quella patologia non vanno bene. Quindi io non posso partire, devi mettere questo. Entri dal medico, il medico ti guarda e tu hai bisogno dell'augmenting. Non ho neanche parlato. Neanche mi ha fatto una domanda su cosa c'è. Io sono venuto a prendere appuntamento per mia figlia. Ah, allora si sieda. È già il medico che ti vuole vendere per forza quella cosa. Oppure non vuole avere a che fare con te, ti dice già la soluzione senza manca ascoltarti. Perché magari ha in studio quei materiali che deve vendere. Oppure perché gli hanno fatto un'offerta quell'anno su questi impianti. E allora ti mette gli impianti tutti uguali a tutti i pazienti. Invece quell'impianto andava bene in quella condizione. In questo paziente era meglio se mettevi una cosa più lunga o più stretta. Una vite che si confa alla forma dell'osso che gli è rimasta. E lì devi avere quindi che cosa? Più soluzioni in studio. Tirare fuori dal cassetto quella che in quel caso specifico serve. Ma se vuoi fare i prezzi basi, quella la devi cercare. Lo stock, l'offerta buona, i materiali seri, solo quelli. Non uso quello perché mi costa troppo. Il prezzo non può essere. Il costo da sostenere del paziente è un motivo, un elemento discriminatorio nella scelta del dentista, del medico o del professionista. Cioè è un parametro di accesso alla terapia. Nel senso che se io non dispongo di quella somma, ok mi oriento in un'altra nazione. Ma non è che sto qui perché sta vicino a casa, mi ha fatto un buon prezzo alla fine perché ho sbattuto un po' i piedi, ok, vabbè togliamo lì questo, i multi unit, gli mettiamo un disco di zirconio sopra e sotto, guardi 7 mila Euro. Però beh alla fine stai facendo una cosa implosiva vicino a casa, scendendo troppo sotto i parametri medi di quella nazione. oppure c'è il paziente che arriva dall'estero, non è mai stato visitato, a distanza gli ha detto guarda, dalla radiografia potrebbe essere questo, il prezzo è questo. Poi arriva, no, mi avevi detto questo prezzo, ok, ok, facciamoli quello che ti avevo detto. Pericoloso andare sotto i ferri così. Invece bisogna fare una diagnosi, esami, dopodiché c'è fuori la soluzione, la ricetta che dobbiamo fare. Ci può essere che il prezzo non è lo stesso dopo la diagnosi, non si fa al telefono la diagnosi, c'è la sfera di cristallo. Vedi solo da una radiografia alcune cose, non vedi le gengive, non si vede quanto è alta la persona, quanto è grande il viso dalla radiografia, non vedi se un dente si muove dalla radiografia, non vedi se un dente quale fa male, non lo vedi, devi fare dei test, non vedi se c'è sangue dalla radiografia, cioè vedi solo una piccola porzione di cose che però assieme a tante altre cose, in realtà fanno fare la diagnosi corretta e quindi poi la terapia. In linea di massima, se uno non può accedere a qualcosa, a una terapia ha due strade, o cambia direzione, si orienta all'estero, in una nazione più economica, per esempio se stai in Asia, in Asia, in Australia, guarderai alla Thailandia. Se vivi negli Stati Uniti, guarderai o nell'est Europa, oppure guardi in Costa Rica, se stai in Europa, guardi all'est Europa. L'altra alternativa è se, supponiamo, non vuoi viaggiare, non ti piace viaggiare, è quello di fare intanto il trattamento che va fatto, ma se non puoi ancora accedere per via del gradino del costo alle terapie, di lei, aspettare, mettere da parte di più e non iniziare e fare un compromesso, e neanche iniziare, fare metà e poi dopo 1, 2, 3 anni continuare, perché nel frattempo quello che fai si brucia, si rinfetta tutto, è come tappare le buche a Roma. Dovresti togliere tutto, rifare il manto e rifare tutte le strade, è inutile che stai lì a tappare le varie buche senza risolvere il problema dei mezzi pesanti, di magari rimettere tutto su rotaia invece che su strada, cioè sono altre le scelte da prendere. E invece, delle volte quella più comoda inizialmente non è poi quella più conveniente, delle volte conviene non fare nulla proprio, alzare le mani e aspettiamo, quando ci saranno le condizioni iniziamo a fare le cose, se no alla fine ti ritrovi che hai buttato tutti i soldi che invece messi insieme avresti potuto fare le cose risolutive, se no l'alternativa è guarda all'estero, però all'estero lì dovrete guardare ancora di più quei parametri che vi ho dato, l'iperspecializzazione, le recensioni e soprattutto a vedere casi reali, risolti. E un'altra cosa importante da guardare. Dovete vedere se ci hanno un gruppo pazienti, ok? Perché quando vi metterete nelle… guarda a caso ce li abbiamo tutte queste cose, perché io ci ho scritto i libri sulle cure all'estero e quindi sapevo quali erano le cose importanti perché mi erano state dette durante il mio studio di mercato da altre cliniche che lo faccio, guarda questo è importante, mi dicevano questo sì, questo evitalo come la peste. Il gruppo pazienti, il gruppo consumatori, difesa pazienti, difesa consumatori è troppo importante. È un po' come quando voi vi orientate a un nuovo professionista, è come quando voi vi orientate al partner della vostra vita. Voi conoscete una nuova persona di cui non sapete nulla, quello che leggete può essere anche una parte della verità, ok? Sarebbe ideale se conoscete un nuovo ragazzo oppure una nuova ragazza incontrare quella persona in mezzo ai suoi amici, vedere come si comportano le persone con lei, con lui e magari poter entrare in una stanza dove ci sono anche tutti i suoi ex, non solo gli amici, anche tutti e ci puoi liberamente parlare. Allora a quel punto avresti un punto di vista in più o più pareri su quello specialista e questo è il gruppo, quello che un tempo era al forum. Se tu hai tanti punti di vista, si può rafforzare l'idea che magari non fai caso tuo, non che non sia buono, ma che non faccia caso tuo, oppure si può rafforzare l'idea che sei proprio nel punto giusto. E questo, essere poi sapere, essere consapevoli di essere nel punto giusto, fa poi tutta la differenza durante il trattamento, durante il rapporto medico-paziente o clinica-paziente, dà più fiducia al paziente e quindi il paziente è più paziente, non è impaziente, e il medico si ritrova a lavorare con dei pazienti che gli portano il torrone da tonare, che fa tutta la differenza poi, lavorare sereni invece che in tensione, perché stiamo facendo un lavoro comunque artigianale, ma su persone, su esseri umani, che hanno delle emozioni. Il ciocco di legno non ha emozioni, lo scolpisci, quello si fa scolpire. Invece nel rapporto medico-paziente è un rapporto di fiducia, l'avete sempre sentita questa parola, rapporto di fiducia. La fiducia nasce da che cosa? Dal quanto io credo che verrà risolto il mio problema, da quanto io medico credo che il paziente seguirà la terapia, farà le cose che vanno fatte, non è indisciplinato, seguirà le tappe, avrà pazienza di non correre subito verso il risultato, perché ha capito che è una riabilitazione, quindi occorrono dei mesi per arrivare al risultato. E questa non ve l'ho messa nelle slide, ma è la parte più importante. La parte più importante per arrivare poi al risultato finale che sia nel tempo, che sia quello corretto e intanto trovare il rametto giusto, l'ultra specializzazione, però poi una volta che l'hai trovato devi poterci accedere e allora lì viene la strategia, ok aspetto oppure guarda altrove. Una volta che l'hai trovato deve anche essere quello che fa per te, cioè che ti ci trovi in comfort a curarti in quel centro. Poi ci sono dei parametri tecnici che ovviamente interferiscono sulla durata del trattamento e anche nella possibilità di risolvere dopo i problemi e ci sono altri parametri indiscutibili che determinano se quel caso possa essere risolto o meno una volta per tutte. Ed è la cosa più importante, il team di queste, l'essere quindi ultra specializzati in qualcosa, a ruoli separati, avere la tecnologia e avere la casistica. È un algoritmo complesso. Il più delle volte il paziente finisce da noi qua per caso, perché non ha fatto tutte queste cose, cioè inconsciamente sì, ci è arrivato alcune cose, però non tutti hanno valutato tutte e tutte queste cose che vi ho detto. Alcune cose, meno male che siete finiti qua, perché altrove rischiavate di manco saperlo, lo sapevate poi tra cinque anni che quella cosa nasce per questa scelta che non è stata presa, ma in quelle cose che non conoscete fatevi guidare dalle recensioni, dalla quantità, dalla qualità, dal gruppo consumatori di difesa che comunque quello vi fa tenere a voi il coltello dalla parte del manico, non si arriva mai comunque al contenzioso, perché è stupido arrivare al contenzioso, se c'è qualcosa a risolvere va risolta e vi dovete far guidare nella scelta futura dal passato, cioè tutto quello che non ha funzionato in passato, forse perché vi stavano consigliando zie, parenti, amici, vai di là da quello che, ok, su quale criterio, su quale basso? Vi devo fare un trappianto, non vado per il passaparola del vicino di casa, oppure di mia sorella che invece ha raddrizzato i denti. Ho bisogno a questo punto di fare una ricerca attiva su internet di chi fa quelle cose esattamente, però bisogna prima essere consapevoli che sia arrivato a un punto dove mi serve lo specialista. Se un paziente non arriva ancora mentalmente al momentum di aver capito che è il momento di affidarsi allo specialista e non fermarsi a chi gli dice questa cosa non si può fare, c'è sempre qualcosa che si può fare se ti affidi a chi fa solo quelle cose, lo specialista, allora rimane nel loop del generalista che lo tiene in cura tre anni, quattro anni, cinque anni, non risolve nulla. Avrete mai sentito per esempio il ragazzino che sta in cura per l'apparecchio da tre anni, quattro anni? Quello è un loop, significa che stai da uno che non sa cosa deve fare, un anno e mezzo gli denti si raddrizzano tutti, se non si raddrizzano in un anno e mezzo è perché devi fare prima chirurgia, ma dopo la chirurgia li raddrizzi in un anno e mezzo i denti. C'è il rischio lì che stai con uno che gli sposta occhio, non ne cavo a piede, ogni volta che viene mi porta 150 euro e allora stai sul libro paga, quello è dolo però, però ci sono anche delle volte dove stai nel generalista che manco lui sa realmente cosa deve fare, non ne ha neanche colpa però c'è magari vergogna di suggerirti quello giusto, guarda vai da lui, capita anche a noi, è capitato di avere dei casi che non ne cavavamo piede, ma il professionista cosa fa? Contata un collega, i colleghi e dice ascolta questa cosa non ne stiamo cavando piede, come chi mi suggerisce, tra colleghi si sa dove puoi riferire, anche a me delle volte chiedono da chi mi puoi mandare nel mio settore, certo se mi chiedi un bravo cardiochirurgo non lo so, non ne ha idea, non ne ha idea da chi mandarti, ma chiamerei magari un cardiochirurgo, gli dico o gli chiedo un consiglio, quella può essere una strada rapida, però anche quella non sempre, può capitare anche quello che non ha voglia o che non conosce proprio. Se avete ancora 5 minuti, vi spiego come sono secondo me a mio parere suddivisi i professionisti, i professionisti, non i dentisti, i professionisti in generale, sempre così, uguale, sono sempre suddivisi così i professionisti, la curva gaussiana è una curva che ritorna sempre questa, questa curva gaussiana, c'hai qua una parte di incompetenti che proprio sono entrati lì perché mi avevano detto che facevo i soldi a fare quello, poi sono entrati, si sono resi conto che dovevano usare le mani e dice no, a me non piacciono queste cose, mettere le mani lì che schifo, però c'è entrato, parenti da dire dai laureati, continua a fare questa cosa che dopo fai soldi, poi alla fine c'è fuori, gli piace fare altre cose, la musica, gli piace, anzi non la musica, era meglio se faceva l'avvocato che studiare il codice civile, poi c'è una buona parte di figli d'arte che però poi la voglia gli viene, ma non stanno puntando all'eccellenza, a spaccare montagne, a fare le cose, a macchina c'è lo, i soldi mi arrivano perché comunque mio padre ha i clienti da 20 anni, 30 anni, bene o meno io non ho fatto la differenza, l'hanno fatta gli altri per me, quindi capisci già che la molla lì non è compressa, è ampiamente decompressa la molla e quindi stanno in un limbo di mediocrità i professionisti, non sto parlando dei dentisti, sto parlando in generale, si applica secondo me a tutte le professioni e anche ai mariti si applica questo, nelle volte sbagli proprio a donna, però ti sei sposato, ci hai fatto un figlio, i mariti ti spingono, vedrai che dopo sarà meglio, vedrai che tutto andrà bene, ne fai un altro, il figlio, perché pensi che va meglio. Poi la cosa migliore sarebbe andare a fare i corsi, capire, lavorare su se stessi, scolpirsi insieme, calibrarsi, il più delle volte i problemi nascono dallo squilibrio, ma se lavori sul trovare un equilibrio, che non vuol dire essere i migliori partner dell'universo, ma essere in linea su alcune cose, su alcune credenze, alcune cose che non vorremmo mai che tu facessi o io facessi, mettere dei paletti, ok se abbiamo dei paletti si vive tranquillamente una vita, anche se non siamo per forza l'altra metà perfetta, l'anima gemella, poi c'è una buona parte di anime gemelle, storie anche bellissime, che però non hanno bisogno di grandi correzioni, ci sono poi le grandi storie d'amore qua, che fungono da esempio per tutti gli altri, i grandi professionisti, un buon 25%, io direi che questo è un 25%, questo è un 50%, questo diciamo che è un 20%, e questi sono in genere i professionisti che lavorano perché gli mandano i casini gli altri professionisti, oppure sono quelli che vanno da loro a fare i consulenti, gli esempi, quello è un esempio perché uno che nel suo settore ne capisce, è uno bravo, è uno da seguire, è uno che questa cosa non riesca a gestirla, non ne ho voglia, tanto c'è una molla decompressa, ascolta, vieni tu a studio due giorni a settimana, me lo fai tu in tutti questi casi qua, mi sarà capitato di andare in qualche studio dove c'era il collaboratore, era uno studio quello di padre in figlio, avevano il cognome, capita, che non è, poi Palmas io non sono figlio di dentista, io non sono figlio di dentista, è un fisioterapista mio padre, di denti non c'aveva nulla a che fare, sono l'unico che non ha fatto fisioterapista e me ne sono andato per un'altra strada, dove c'hai solo da perdere, anzi c'hai solo tutto da guadagnare, ok, non c'hai niente da perdere, tanto cosa faccio, metto in cattiva luce lo studio di papà, manco ce l'ho lo studio, e allora inizi a cercare dei maestri, delle guide, hai più padri, alla fine ti contamini un po' con tutti, ti contamini, prendi il meglio, poi c'è un buon 5% che cambia la storia, e sono questi qua gli innovatori, quelli che tracciano la strada per gli altri, dove si scoprono cose nuove, si fanno cose diverse, cose che non dai per scontate, usare materiali differenti, andare anche cose non scritte sui libri, ma andare a sentire più persone, cosa sta succedendo, cosa stanno provando loro, questi innovatori sono quelli che poi dirigono l'asse magnetico della terra, e delle volte si può anche spostare totalmente l'asse della professione, delle volte ritorna anche l'asse, delle volte si va verso una zona, poi alla fine si vede che era meglio quella, non sempre innovare significa fare delle cose che sul lungo termine vanno bene, e lì devi basarti molto sull'intelligenza e la conoscenza collettiva, e quindi andare a vedere voi cosa state sperimentando, voi invece, però se trovi un pattern di cose che ricorrono, è probabile che hai intercettato un qualcosa di nuovo che si sta validando, le nuove terapie sperimentali, o persone che hanno capito alcune cose di bella, persone che avevano capito altre cose, poi in genere li fanno fuori questi, Tesla, quando sono ancora proprio più in là, perché sono troppo scomodi, hanno capito tutto, di questi, questa distribuzione del grafico che vi ho fatto, varia a seconda di come tu metti le persone dentro, in questo mercato, perché questa sarebbe una distribuzione normale se le persone entrassero qua dentro, diciamo un po' spinti e un po' per voglia, un po' perché sono attirati, attratti, se tu però spingi persone qua dentro proprio in quantità, rischi di pigliare tantissima gente che non gli frega nulla di questa professione, e quindi aumenti questa parte iniziale e comprimi questa parte finale, ok? Ha senso? Questo è il test d'ingresso delle professioni mediche, ok? Se io lascio l'università aperta, cioè chiunque può essere medico, c'è il rischio che a chi non gli frega nulla, manco ci va, ok? Se invece io spingo, anzi, più che lasciare libero aperto, diciamo che se io spingo con l'attrazione dei soldi verso una professione, c'è il rischio che entra gente dentro che poi dopo sarà non appassionata, se io lascio aperto o chiuso, c'è il rischio che rimbalzi gente appassionata, ok? Ma che non è brava nella logica, in quel test di logica, o che è brava in cosa è successo nel 1900, in quel di Waterloo, ma non è così che devi decidere chi entra o chi non entra a fare il chirurgo. Purtroppo i test di ammissione alle professioni sono basati, non so se li avete mai visti, su dei quiz, tipo quelli per la patente, su domande di cultura generale, test di logica, 2 più 2 uguale 4, ma non è quello il modo di selezionare. Il filtro che tu metti qua determina quanti poi danni tu vedi fatti sui clienti o sui pazienti. In più, questi, più danni ci sono e più questi vivono e guadagnano, ok? Perché lavorano poi su tutti quelli che sono stati rovinati dagli altri. Quelli che sono qua sono centri iper specialistici che lavorano su tutte quelle cose che non vogliono lavorare questi, ma non possono neanche più essere risolti da questi. Quindi parliamo anestesia generale, chirurgia maxillofacciale, anche se loro vorrebbero, ma loro non hanno i mezzi, gli strumenti, l'esperienza per fare questi casi è inevitabile. Ti chiamo, senti, devi andare a Tel Aviv a fare questo trappianto. Ok, e questa era la lezione di oggi. Come scegliere? il dentista, il professionista, il medico, il partner giusto, anche se non sei un dentista. Devi andare a essere guidato da altri parametri. La vicinanza non è uno di questi. Il professionista non è quello che sta più vicino a casa tua. Siete d'accordo? Che il professionista che vi risolverà la cosa non è quello che sta al pian terreno del palazzo? Questo è il primo degli errori che fanno molti. Il secondo è guardare alla categoria senza pensare alla specializzazione. Gran parte di questi errori che si commentano qua è perché uno ha scelto per prossimità o semplicemente perché c'era scritto lì avvocato. Nell'immaginario c'è nella cultura media o che mi serve l'avvocato. Io chiudo. Un saluto.